questo che però ha fatto l'attacco tattico capattino erano che fare attivusori non ti hanno dato nulla? no questa volta no comunque questa percchione secondo me non voleva ottenere nascosta a qualcuno io per sicurezza che la mandiamo dal terzo cavio diciamo ti puoi analizzarla forse erano dei ninja traditori forse io direi andiamo torniamo al villaggio per chiudere che forse ora siamo abbastanza forti per diventare dei ciumi intanto che andiamo dal terzo cavio chiediamo ma perchè hanno murato i modi ridicoli ma non so forse perchè non lo uso più nessuno portarsi però non è tanto c'era di gente per farci fare i ragazzi invece c'era la gente ma anche questa cosa è strana dovremmo chiedere più informazioni al terzo cavio eh già però tu, tu, tu fermi che succede? tu se non sbaglio essendo del clan non cica dovresti avere un potere nascosto dentro di te un'abilità innata ah si lo sharingan oh non dimmi che tu l'hai già sblocato ti sto parlando di questo oh esattamente e precisamente di questo vero ok per ora è solo un'atoma perchè ovviamente essendo le prime armi non posso già ok comunque io ti consiglio di utilizzarlo spesso perchè può servire nei combattimenti tipo per esempio però diciamo che ancora allo stadio basilare mi sono allenato un pochino con il terzo ninja leggendario cioè presente Jiraiya si ecco mi ha allenato un po' e mi ha aiutato ad imparare questa tecnica oh sarebbe la seggi mod è bellissimo per ora non mi rende proprio fortissimo perchè ho appena imparato però è utile è utile ok proseguiamo intanto si è fatto pure notte io direi di andare a dormire poi domani mattina andiamo a fare tutte queste cose oh finalmente siamo pronti vai vai allora ricordati per questo esame lo vorremmo avuto diciamo che noi non abbiamo spiegato nulla in realtà però proveremo qua di provvisare esatto e lo sai quella cosa più bella è che non so dove sei va ecco ti ho visto che ho visto ok vai 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 aspetta ok credo p ok ecco la carter ecco la carter ecco la carter v park bellucci apri 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 appri quali spagnolo Aspetta, aspetta, aspetta Non abbiamo fatto neanche la colazione Questa la nasconderò da qualche parte Buon salve Oh, non c'è qualcosa Allora Ok Oh, guarda qui Foglio dell'esame del Genin Ok, lo dobbiamo fare Non copiarmi, ok? Sono molto malvagio su queste cose Anche se potrei copiare io No No Ci dobbiamo concentrare, dobbiamo diventare degli oggi onesti Ok? Bene A lavoro Ok, dicono che dobbiamo prendere un occhio nostro A quanto pare li abbiamo presi Della prossima O qualcuno Uh, hai passato la prima parte Ok, prossima cosa, vediamo un po' qual è il prossimo esame Dice, provo la tua agilità Prendendo un oseroth Dobbiamo catturare un oseroth Quando ci servono i pesci Ok Allora al lavoro Ma certo Vai, lasciamo dalla classe, veloce Sì Questo allenamento Cioè Questo esame Vuol dire Si fa sempre più difficile Oh, ok Abbiamo preso Io ho questo marruzzo crudo Ce l'hai anche tu Sì, questo qui Dicono che stanno qui Oddio, ecco, li rivedo Io Guardi, guardi Ho domesticato Cosa ha fatto? Secondo me Dobbiamo embraccare Braccale, bracale Vai, vai, vai Dov'è l'altro? Sparta Vieni qua Ok La parte tua l'abbiamo passata Ok Allora quanto pare l'ultima Penso l'ultimo L'ultima esame È quello di Prendere un pezzo di grano Ok Ok Vai, chiudiamo le porte Però ti credo che È qui dentro questa scuola Quindi Aspetta, aspetta Sto sono andato appena di sopra Magari Aspetta, aspetta Sto arrivando Guardi qua C'è un po' Forse Scusa Guardi, sei Stammi pezzo di grano Sì Un pezzo di grano Ok Fatto Ok, eccoci qui Allora sei pronto Stato, no Stato stancato A fare questo esame Rendere molto Abbiamo perso un'ora Per fare questo esame E ora siamo arrivati qui Sei pronto? Sì Vai Ok, abbiamo passato l'esame Bene Qualità, storia Eccolo qua Il maestro Ruka sta parlando Sta nominando Sasuke Neji Pur a me Forse gameplay Uchida Oddio Si chiamano Si chiamano Tantenne Vabbè Tutti Quelli Del villaggio Della foglia Oddio Sì Coprifonte Da Genin Siamo Ufficialmente Genin Un attimo Un attimo Questo qui Oddio Bello Ci sta Ok Andiamo avanti Il Ruzion Team 8 E' composto Da Kiba Shiro Minato Ok Il Team 7 Ecco Oddio Che figata Sasuke Noi due E poi Sakura Non sto capendo Il mio sogno Il mio sogno E' segreto Oddio Figa sta roba Ci vediamo domani Ok Bene Molto Interessante Molto interessante Ok Quindi Ci vediamo domani Allora Che dici Se Ci andiamo ad allenare Giocamente Bene Andiamo Andiamo In qualsiasi parte Sei pronto Non sarà facile Contrastarla Ok Così Dove Metti Sì Dori Sì Dori Fatte sotto Noi due Di zombie Si smertono Noo 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 Ma che c- Noo 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 Ma dove mi trovo? Ma che c'è fatto con il caso? Cosa c... è successo? Io mi ricordo, avevo visto che eri accasciato a terra e sono caduto a terra pure lì Cosa è successo? Ma non so, è stato qualcosa di improvviso Penso che sia stato il tuo potere vicino di un percorso In teoria ti paralizza, ma quindi ti dà uno scossa Non vorrei che faccia un ultimo imparalizzato i nervi del corpo Ma... non so Boone, mi sono trovato a terra e ora qui E' successo? Non so, sono distrutto andando a letto Beh, direi che è stato un ottimo allenamento, sono stato soddisfatto E soprattutto noi che siamo dei geni E' vero, oggi ci aspetta il nuovo allenamento E' vero Bene 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 Ok Vai Ci stanno aspettando tutti Vai 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 Grazie a tutti.